Fate presto! Può essere sintetizzato con queste parole l'appello del responsabile del piano di zona S4 Antonio Florio a chi in famiglia ha una persona affetta da una malattia del motoneurone per poter avere diritto ai contributi stanziati dalla regione Campania. La richiesta può essere fatta rivolgendosi al proprio medico di base per avere tutte le informazioni sulla procedura da parte di chi è affetto da una di queste malattie, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi laterale primaria, atrofie muscolari spinali e paraparesi spastica familiare. La regione Campania non avendo già individuato a monte i beneficiari, l'attività di comunicazione è particolarmente importante perché significa arrivare a tutte quelle persone che hanno all'interno del proprio nucleo familiare una persona affetta da queste malattie. L'attività di comunicazione è già stata avviata attraverso l'ASL che ha comunicato ai medici di medicina generale che c'era questo avviso e che c'era questa possibilità di avere da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1500 euro a seconda della intensità della malattia. Già ai medici di base gli è stato comunicato questo avviso per cui immagino che già i medici di base hanno comunicato ai propri pazienti eventualmente la possibilità di fare questa domanda. Ad oggi ne sono arrivate circa 8 domande, 6 delle quali sono state già valutate positivamente dall'ASL determinandone già il contributo e che penso che tra domani e più tardi, la prossima settimana, saranno inviate a Napoli. La cosa importante di questa iniziativa qual è? È che siccome la Regione Campania non ha stabilito una somma precisa come si dice, prima si arriva perché va fino ad esaurimento del suo fondo, quindi prima si arriva a fare la richiesta in Regione Campania e più possibilità si ha nell'avere il contributo.